ecco gli ingredienti per i nostri cookies al cacao cioccolato fondente natalizi allora ci vorranno 160 grammi di farina 1 o come nel mio caso farina integrale più 40 grammi di frumina che ho già messo insieme 90 grammi di zucchero integrale di canna 2 cucchiai di cacao amaro mezzo cucchiaino di bicarbonato e un cucchiaino di lievito per dolci un pizzico di sale dopodiché abbiamo 100 grammi di olio di semi di mais 50 grammi di latte vegetale usando questo di avena e 120 grammi di gocce di cioccolato fondente questi sono i nostri ingredienti procediamo con la preparazione eccoci pronti adesso abbiamo qui già le nostre due farine adesso aggiungeremo il cacao i due cucchiai di cacao il mezzo cucchiaino di bicarbonato e il cucchiaino di lievito per dolci e in più aggiungiamo anche le gocce di cioccolato e il pizzico di sale quindi abbiamo qui la maggior parte degli ingredienti secchi tranne lo zucchero e iniziamo a mescolare bene gli ingredienti secchi adesso in un altro recipiente andremo a mettere l'olio lo zucchero e andiamo a mescolare bene con una frusta per far sì che si sciolga lo zucchero questo come sappiamo questo tipo di zucchero qui va lavorato anche un po' meglio rispetto allo zucchero quello bianco semolato man mano ci aggiungiamo anche il latte vegetale e sciogliamo bene lo zucchero una volta fatto sciogliere bene lo zucchero aggiungiamo i liquidi ai solidi agli ingredienti secchi e mescoliamo bene il tutto adesso siamo pronti per impastare con le mani ecco qui dopo circa mezz'ora abbiamo estratto l'impasto dal frigorifero ci siamo trasferiti su una spianatoia adesso andiamo a stendere l'impasto una volta formati i nostri biscotti possiamo andare ad infornare in forno preriscaldato a 170 gradi forno ventilato per 10-12 minuti eccoli qui i miei cookies con goccia di cioccolato fondente versione natalizia sono pronti io ho voluto anche fare un mega biscottone a forma di alberello e l'ho messo in centro e niente li ho lasciati raffreddare poi ci ho spolverato su anche dello zucchero a velo sono semplicissimi da preparare ve li straconsiglio e niente ragazzi io spero che questa ricettina semplicissima da fare a Natale ma anche no veramente ve la consiglio spero vi piaccia scrivetemi tutto nei commentini vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao